Hai letto il giornale? Sì, l'ho letto. Mi dispiace. Non volevo che lo venisse a sapere così. Ma sai, in un certo senso me lo aspettavo. Te lo aspettavi. Vuoi parlarne? Non lo so, sai, sono ancora un po'... Un po'? Un po'... Un po'? Un po' scosso. Scosso. Magari ti fa bene, scosso. Anche tu l'hai saputo dal giornale? No. Ma cosa hai pensato dopo, quando l'hai letto? Non l'ho letto. Non hai letto il giornale? No. Allora perché mi hai chiesto se l'avevo letto? Non si possono più fare domande. Ma almeno sai quello che è successo? Eh no, se no non venivo a chiedertelo. No, aspetta, scusa. Tu mi hai detto che non volevi che lo venisse a sapere così. Esatto. Come potevi non volere che io venisse a sapere dal giornale quello che è successo, se tu non lo sapevi quello che era successo? Eh già. Beh ma posso avere mille buone ragioni, dai. D'accordo. Ma intanto adesso vuoi sapere quello che è successo? Non è tanto quello. È che mi sa che ti è successo qualcosa. Eh. Vuoi ben dirlo? Hai visto almeno il telegiornale? Ah, il telegiornale l'ho visto, guarda. Quello risparmiamolo. Ho ancora quelle immagini davanti agli occhi. Sì, dai, erano un po' troppo, come dire, dai. Non dovrebbero trasmetterla quella roba. Perché no? Ma dai, perché no? Poi non ci voglio più pensare, l'hai vista anche te, dai. No che non l'ho visto. Non hai visto il telegiornale? No. E allora perché mi hai chiesto se l'avevo visto? Cos'è, tu puoi chiedermi se ho letto un giornale che tu non hai letto, io non posso chiederti se hai visto un telegiornale che io non ho visto. Già. Allora, mettiamola così. Tu hai letto il giornale e io ho visto il telegiornale. Tu sai una cosa che io non so e io so una cosa che tu non sai ma che tu vuoi sapere. No, che non lo voglio sapere. Sei tu che vuoi sapere quello che è successo. No, 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 io ho guardato il telegiornale. E io ho letto il giornale. Ma non è detto che si tratti della stessa cosa. Infatti non sono la stessa cosa, giornale e telegiornale. Intendo dire la notizia. Intendi dire la notizia? Sì. Dilla. Ah, che la vuoi sapere? No, non la voglio sapere. Tu hai detto intendo dire la notizia e tu ho detto dilla. No, io ho detto intendo dire la notizia nel senso di mi riferisco a, non nel senso di sto per dirla. E lo sai cosa faccio io adesso? Esco, vado in un'edicola notturna e mi prendo un giornale tutto mio. E sai cosa faccio io adesso? Vado a casa, tiro giù le tapparelle e guardo il telegiornale da solo. Così me ne frego io del tuo giornale. E io me ne frego del tuo telegiornale. E io me ne frego dei tuoi misteri giornalistici. E io me ne frego dei tuoi misteri televisivi. Ma la smetti di ripetere le mie frasi? Non le ripeto uguale, alla fine cambio parola. Non le ripeto uguale, alla fine cambio parola. Tu le hai ripetute uguale. Non le ho ripetute uguale, l'ho fatta con la voce. Tu adesso le hai ripetute uguale. Con la mia voce, con la mia, ancora. Sei simpatico? Tu sei simpaticissimo. Maturo? Tu sei maturissimo, ti è accaduto. Hai 31 anni? Quasi 32, allora... Toglimi una curiosità, ma hai lavato i capelli oggi? Sì, perché si vede? Devevi averli lasciati stessi fuori. Sai cos'hai di bello tu? Cosa? Oh cazzo, non lo sa niente lui. O lo sto chiedendo a tutti. Ho detto, stasera lo vedo, glielo domando. Magari lo sa lui. Se non sa lui, chi deve saperlo? E tu? Bello che i tuoi capelli sono a nuvola. E nel senso che sono di passaggio proprio. No, 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 resta di profilo, così metta faccia me la risparvi. Stai, stai. A proposito di facce, bella l'idea di farsi la faccia col DAS. Quanto meno io ho usato una formina, ti è bastato il culo di un bicchiere, eh? Tanto io conosco Lucio Dalla. Io sono stato parente di Lucio Dalla. Lucio Dalla è mio papà. Io sono papà di Lucio Dalla. Io ho scritto tutti i testi delle canzoni di Lucio Dalla. Io ho scritto tutte le musiche. Quante le musiche fanno cagare. I testi, se hai mai capito niente. Cazzo, dire mai, due cose si sono capite. Lupo o Piazza Grande, basta. Tanto io ho scritto tutti i testi delle canzoni di Bob Dylan. Non dire scemate che tu non sai neanche l'inglese. L'inglese, lo parlo così. Dai, dimmi qualcosa. E il plurale, è così. Intanto io ho un amico che conosce benissimo il batterista dei Rolling Stones. E come si chiama questo tuo amico? Mick Jagger. Io ho uno zio che ha insegnato a Zico a battere le punizioni di destro. Mia zia ha insegnato alla sorella di Zico a paradire. Mio zio è Zico? Eh, mia zia sua sorella. Fai un po' te. Io, nel 1982, ho doppiato Robert De Niro. Vinciero una volta in America. Io nel 74 l'ho doppiato Niki Lauda Monza. Vinciero una volta il Gran Premio. Che male questa mano, mi fa malissimo fare il trasloco. Ma è male che l'ho fatto perché ho ritrovato un vecchio regalo di un mio amico, Louis Armstrong, la sua tromba. La sua tromba che mi aveva regalato. E con l'ottone, insomma, l'ho messa in camera da letto sul comodino. Se l'appunto al mattino, suona. E lì, cimelli. E anche io in camera mia ho il pianoforte. È di Beethoven. Me l'ha regalato alla Cresima. Suona piano. È forte. Io a caso ho la chitarra di Chopin. Non dire cagate, Chopin non ha mai usato la chitarra. Infatti è nuova, ancora imballata. Beh, Chopin era bravo. Bravissimo. Era bravo, era un genio. Grande genio Chopin. E ne aveva di stoffa. Ne aveva sì. C'è la casa mia mamma, ha fatto le tendine nuove. A proposito di tua mamma. Sai che va in giro a dire che sei un pirla? Chi te l'ha detto? Tua mamma. La tua va in giro a dire che la tua testa si può usare come palla da bullying. Tanto tra un annetto e liscia. Due dita nel naso. A limite si stuccano le orecchie per il rimbombo. Io a casa ho una coppia di canarini. Io ho un full di gatti. Io a tre anni andavo già in vacanza da solo. Io a tre anni invece ho dovuto decidere o le ferie o la macchina. Io a due anni avevo una fidanzata di venti... Dicco di quaranta su. A due anni avevo una fidanzata che era in prepensionamento. Io a due anni cercavo i mobili per sposarmi. E potevi venire da me. Io a un anno avevo un mobilificio. A saperlo, ho fatto anche i saldi. E poi io a un anno già scrivevo. Eh ma già da un quattro o cinque anni. E cosa scrivevi? I testi di Lucio Dalla, pirla. E cosa scrivevi? Invece tu sei maturo. Sei maturo e intelligente anche. Questa è tutta l'intelligenza che è compressa dentro e vuole uscire in qualche modo e manifestarsi. E dire la sua. Eh proprio, eh quanta intelligenza. Guarda quanto, eh come si esprime. Sai cos'hai di bello tu? Cosa? Che prima o poi muori. Che prima o poi.